L'audio è l'aspetto che molti non curano o che non sanno assolutamente come gestire. Per arrivare subito al punto ti dirò cosa fare per evitare il rimbombo e disturbi esterni. Prima di tutto devi trovare la posizione esatta del microfono che utilizzi. Non è così scontato ma non sempre il microfono è vicino alla webcam o come nei cellulari è dalla parte opposta della telecamera. Sia che tu usi il pc con la camera integrata con una webcam usb o il cellulare devi sapere dove l'audio verrà rilevato. Una volta trovato facciamo in modo di farlo diventare direzionale. Di norma il microfono rileva i suoni provenienti da ogni direzione ma noi vogliamo fare in modo che rilevi solamente la nostra voce. Per farlo senza utilizzare i microfoni esterni dobbiamo schermare tutte le altre direzioni. Io di solito uso un piccolo cono foderato di stoffa spugnosa, esempio un vecchio calzino, che allo stesso tempo rimuove molto il rimbombo e riceve i suoni solo in base alla direzione che sceglierai. L'audio ora è ok. Passiamo al prossimo video. Grazie a tutti.